Conferenza stampa di fine anno Un bilancio sull'attività del Consiglio regionale che nel 2012 ha approvato 13 leggi e svolto 131 sedute d'aula per un totale di 74 giornate di lavori. Nel tradizionale incontro con la stampa di fine anno con il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo erano presenti i Vice Presidenti Roberto Placido e Fabrizio Comba con i consiglieri segretari Gianfranco Novero, Lorenzo Leardi e Tullio Ponso. Le sedute del 18, 19 e 20 dicembre. Il Consiglio regionale ha approvato in seconda lettura la legge di modifica statutaria che dalla prossima legislatura riduce il numero dei consiglieri da 60 a 50 e quello degli assessori da 14 a 11. Il 19 dicembre ha approvato la legge che porterà risparmi per 4 milioni di euro al bilancio del Consiglio. Nella seduta del 20 ha proseguito l'esame del provvedimento sull'anagrafe degli eletti e ha approvato le modifiche allo statuto del CSI che permetteranno di ricevere affidamenti e commesse dal resto d'Italia e dall'estero. Premio Gianni Oberto E Chiara Tavella con la tesi Contributo alla biografia letteraria di Santorre di Santa Rosa, una commedia inedita, la vincitrice del premio Gianni Oberto, in memoria del Presidente del Consiglio e poi della Giunta nella prima legislatura. Secondo classificato Roberto Valerio, l'antroponimia di Valperga nel XVII secolo. Terza Sara Lorenzetti, Ricordare e raccontare, memorialistica e resistenza in Valdossola. Attestato a Guido Battista Raskieri, senso identità del termine popolare, alcune prospettive ed indagine etnomusicologica, la riproposta di repertori musicali tradizionali in Piemonte. Mostra Aspetti del Piemonte Rimane aperta fino al 16 gennaio, nella Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale, la mostra pittorica Aspetti del Piemonte, realizzata dall'Associazione Amici dell'Arte di Pianenza. All'inaugurazione, il 17 dicembre, il Presidente dell'Associazione, Francesco Gollini, introdotto dal Direttore della Comunicazione dell'Assemblea regionale, Rita Marchiori, ne ha illustrato contenuti e finalità. Offrire, attraverso una trentina di opere a tecnica mista, uno sguardo suggestivo sul Piemonte e sulle sue meraviglie. Babbo Natale in biblioteca Gli alunni della Scuola Materna Bellardi di Torino hanno visitato la mostra I personaggi del presepe, allestita nella biblioteca della regione. Nella visita hanno incontrato Babbo Natale e hanno imbucato le letterine nell'apposita cassetta messa a disposizione da poste italiane. La mostra sui presepi è visitabile fino al 18 gennaio 2013. Grazie a tutti per aver guardato il video.